La azione trascendente esiste veramente e non possiamo avere dubbi sull'interno del Contexto Divino. Il Divino, in realtà, è l'azione equale e contrario, che esiste dal primo principio di D'Anamico, che è chiamato per l'azione equale e l'opposizione, o reazione. Dunque, alla base dell'evoluzione apparente dell'Universo, c'è l'azione divina e trascendente, equale e contrario, che, essendo trascendente, non appena appena, se non nella reazione equale e contraria, che formano la realità. Quindi, questo nostro Universo della Realità è la reazione alla divina e trascendente azione, fatta dal contesto magnetico dell'antimatero, che è fatto dal contesto del pollo spirito di tutto ciò che non importa. Io sono Romano Amodeo, da Italia. Grazie.